Grazie a tutti e a presto il mio appuntamento! Allora, adesso invitiamo il nostro unissimo speaker, Pepe Fiore, che racconterà delle sue esperienze della vita in India. Grazie! Grazie a tutti! Grazie, dove ho studiato, nel 1986, le prime tre file, di sotto sono docenti, gli altri sono tutti studenti. Ok, Pepe Fiore e Maraj, foto della mia terza competizione all'India, Competition All India, Competition Labatt. La prima vinta a Pinares, la seconda vinta a Lakhnau. In questo articolo mi hanno apostrofato il titolo di Pepe Fiore e Maraj, che in India si dà solo ai grandi scherzi. Mi è andata bene! Questa qua è la mia quarta competizione in Tala, percussione del nord dell'India, vinta a Bombay, alla Sussika Samsat. Ecco, la foto di sopra del 1996 dimostra le onore e efficienze ricevute dal presidente di commissione. Competizione e onore e efficienze. Qui siamo a casa del mio guru, il mio maestro, insieme alla sua moglie, la mia mamma guru. Erano già otto anni che vivevo con loro, ed è interessante perché come il mio corpo si era trasformato quasi, somigliando quasi a loro. Infatti sono stato come un figlio più putativo, insomma. Ho studiato musica dal mio maestro, dal mio guru, ma ho frequentato altre due università, grazie a lui. Questa qua, sono molto affezionato a questa foto perché è stata usata nelle varie competizioni del vostro rato, ma che soprattutto dimostra l'affetto, il bene e l'amore che il mio guru fu Pandit Badrima Raj nei miei confronti e viceversa, qui avevo 23 anni, ne ho 56. Ecco, questo è molto interessante perché a destra c'è il mio nonno guru, a sinistra c'è il mio bisnonno guru, Pandit, allora, Pandit Kateva Raj, Pandit Valdeo Sahai. Questi guru hanno tramandato, hanno studiato e dedicato la loro vita a Italia e hanno tramandato le loro scienze di scemo, in me compreso. Ganesh, una divinità Hindu, questa qua, la quale, da 5.000 anni, suona Itabla con la testa di elefante e il corpo umano in segno di saggezza. Lui suona Itabla perché, anticamente, Itabla su Itabla si suonavano le scritture sacre Hindu, in sascrito, e le nostre lingue in Europa siano lingue indo-europesi. Questo è un concerto tributo a Verona nel 2000, con i miei allievi di Itabla, esattamente dopo 12 anni, dalla morte del mio maestro, tributo, concerto, al FUPA di UPA di Maraccio. E adesso parliamo delle collaborazioni artistiche, grazie a Itabla con tutto. Questo signore qua, Giove Tlofen, suonerà domenica 27 qua, a Trento. Sì? E andate la sentire, signori, non lo perdete. Alzate a chiare. Signori, vale la pena. E io ho suonato con lui nel 1988 qua, a Roma. Grazie ai studi che ho fatto in India. Questa è Ruben Yates, un allievo di Paco D'Osia, so sono di Itabla, 1993 maggio, e anche lui qua su una musica Faleco. Grazie alla musica indiana, io riesco a suonare in diversi sti musicali. Non è un'arroganza, ma è un dato di fatto. È un contributo culturale, per cui la multinazialità è una cosa molto importante. Domenico Di Piazza, uno dei migliori bassisti al mondo. e ci ho suonato insieme anche a lui. E qua si suona musica Jets, insomma. Questo signore qua è il maestro Orangio Hernandez, uno dei migliori bassisti al mondo. È un mattacchione questo qua. Musica latino, americana, tempi pare, tempi discone, ecco. Grazie agli studi che ho fatto in India, ho potuto suonare con due suoni. L'India, la multirazialità, signori. Il contributo, i nuovi idiomi culturali di cui noi tutti abbiamo bisogno. E questo è Antonello Sardis, uno dei migliori fisarmonicisti al mondo. Lui è sardo. E questo signore qua, quando suona, è una bomba pagante, perché quando suona, riesce a prendere tanti stili musicali. È un grande musicista, insomma, ecco. È uno studioso di tutte le culture del mondo, insomma. Questo è un grande danzatore indiano. È un katak. Io, sitar. Ecco, il katak è l'antenato del flamenco. I primi andalussi arrivati in Andalusia erano cipsi emigrati dall'India. E col che io ribadire, che le nostre lingue si chiamano lingue indoeuropee. Questa è una famiglia di indiani, sono tutti sitaristi. Si sitar con uno strumento a 12 corti lungo un metro e mezzo. Sono tutti sitaristi. Tutte le italiane sono queste. Immaginate la cosa ancestrale degli avi, degli nostri trisauri. Come viene tramandata. E gli indiani sono maestri in questo. Nel tramandare la vita. Questo è il progetto che porto nelle scuole, nel 1996, indirizzato a scuole materne, elementari e medie superiori, grazie agli studi che ho fatto in India. Per cui il terzo modo non esiste, esiste solo la roganza dell'essere umano. Ecco, questa è un po' la strumentazione che ho acquisito in tutti questi anni e che metto a disposizione nei vari seminari. Ecco. Questo qua è il Tava, lo strumento per cui mi sono specializzato, e il pozzo dalla quale viene fuori tutta sta roba qua. I indiani. Eh? Non esiste il terzo modo, signore. Questo è un saggio di cento ragazzini, uno spettacolo con tutte le percussioni, e un saggio di fine anno scolastico, dove ho fatto solo cinque classi, e tutti insieme, vedi, già un'altra, io stavo solo tutti insieme. Grazie a India. Eh, insomma, signori, non viaggio in India, no? E questo è un saggio di fine anno scuola perna. Eh, non è facile, perché quando insegna la sua materia, signori, non puoi dire, ci sono altre titanze che ci sono, ecco. Questa è l'ultima foto che vedrai, quella è la foto con cui sono affezionato un po' di più. Ecco. Allora, questo è il mio guru. Sua moglie, la mamma della mia mamma puttativa, il figlio che vivente e il figlio che è morto, che aveva sei anni. Io sono una ricamazione di quest'anima qua. Siccome andavamo a ritroso a vedere i nostri antenati in quest'anima, a me è capitata una mia esperienza pazzesca. Mi sono tornato a vivere con questa famiglia. Ecco. Voglio dire un'ultima cosa, voglio dire, prima che faccia delle domande. È interessante, perché il percorso che è avvenuto oggi è bellissimo. Abbiamo fatto il giuro del mondo, no? Cioè, perché si è partiti da dal viaggio sulla Trasmogodica. sui nostri ami, per cui il giro del mondo, no? Poi il lancio della vita, lo sport, signori, e quella c'è una disciplina interiore, psicofisica, spirituale, per la quale deve potenziare il nostro intelletto. La musica è la stessa cosa. Poi ci abbiamo in the middle of nowhere, il viaggio in Australia è stato questo, vero? Sì. Scusatemi. Sì. E il viaggio in Australia? Sì. Interessante questa cosa. Io vi do in Australia, però in realtà, stavo facendo il giro del mondo. Poi, la no comfort zone, è un casino qua. Io vi da 12 anni in India, dal 78 al 90, fuori dai propri luoghi comuni, perché quando viviamo fuori dai nostri luoghi comuni, la mente non si addormenta. Se non rischiamo a mente, ci appoggiamo in nostro sederino, e ci addormentiamo, non facciamo una muffa da dentro. Per cui questo percorso qua, è importante, qualsiasi percorso che facciamo nella nostra vita, ci deve essere una no comfort zone, altrimenti, in qualsiasi studio, in qualsiasi dimensione, poi è arrivata la falena, la donna. Perché, insomma, stiamo facendo il giro del mondo. Ma cos'è che fa il giro del mondo? È il femminile. E questo percorso qua, cioè io sono emozionato perché vuoi avere una propria sequenza, ma in realtà, che bellissima sequenza. E questa amuse me, è una sintesi anche, diciamo, no? E' una sintesi. Perché in realtà, noi, cioè il percorso per tutti questi viaggi, quelle distanze sono state tagliate. Verre? Perché io quando abitavo in India, non c'era il telefonino, adesso riesco a chiamare direttamente da mia mamma appuntativa, lui non è ancora nel telefono. Per cui, cerco, il fatto di aver tagliato le distanze è bellissimo. Cioè, quella è la parte buona, qui c'è la parte brutta di queste cose qua, che fa un abuso del uso. Ma in realtà, il fatto di aver tagliato le distanze, ci tiene uniti, ce ne sa c'è. Sapevamo che è piccola la terra rispetto a tutto l'universo, no? Ma adesso è chiaro. E poi saluto io, non mi riesco a vedere come i vecchi di India, insomma. grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti.